Buongiorno signori, buongiorno Presidente, buongiorno Presidente, colleghi e studenti. Questi sono i ragazzi della Quarta G, H e Quarta X del liceo musicale, dell'apporto di musica d'insieme del nostro liceo. Quindi seguiremo per voi questa mattina di Ulster, Gustav Ulster, il primo movimento della suite Brock Green. E dopo seguiremo un pezzo di un compositore contemporaneo giapponese, si chiama Joe Isaishi, e faremo il primo movimento del quartetto Student Quartet, riduzione dell'orchestra della camera. Buon ascoltamento. Buon ascoltamento. Buon ascoltamento. Buon ascoltamento. Buon ascoltamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.